Una Toyota Ego è uscita di strada, si è scantata contro ad un palo e si è ribaltata sul fianco. La segnalazione è arrivata al 9-112 nella serata di domenica 1 gennaio, poco prima delle 21. Sul posto, in strada della Chiara, sono arrivati i vigili del fuoco di Vrea e Bosco Nero, l'ambulanza del soccorso avanzato e i carabinieri e hanno subito visto che del conducente non c'era traccia. Subito dopo l'incidente, avvenuto magari già nella notte di San Silvestro, chi era la guida ha abbandonato la vettura. Ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per risalire al proprietario. Grazie per la visione!